Ad Acicatena bisognerà aspettare altre due settimane per conoscere la data del nuovo Consiglio Comunale. Insomma, servono 15 giorni ai consiglieri per visionare il testo del piano triennale delle opere pubbliche, atto propedeutico al bilancio di previsione. Sicuramente le forze politiche stanno lavorando per presentare degli emendamenti. Segno che il dibattito politico catenoto si sta risvegliando dopo l'appiattimento degli ultimi mesi. Questo è stato deciso stamane, infatti, in sede di conferenza dei capigruppo. Comunque nella prossima seduta consigliare, previsti all'ordine del giorno altri due regolamenti, mentre il conto consuntivo resta all'esame della prima commissione consigliare.